Buongiorno e benvenuti. Benvenuti a questo nostro convegno, parleremo di strategia di digitalizzazione. Poter gestire rapidamente, in maniera efficace, quelle che sono le segnalazioni, le problematiche, le richieste, sicuramente genera un valore per l'azienda. E stiamo sempre più cercando di digitalizzare anche la comunicazione verso l'esterno. Una banca come la nostra, mediamente in Italia, ha normativa interna per 24.000 pagine, uno sproposito. Avere collaborazione nella costruzione di questi documenti. Gestire la minimizzazione del rischio. E il percorso con DoFlo inizia dopo la crescita esponenziale che qualche problema organizzativo e gestionale ce l'aveva creato. Quello che poteva essere smaterializzato, smaterializziamolo. E quindi abbiamo passato all'archiviazione ottica sostitutiva, al libro unico, libri contabili, registriva, movimenti di magazzino, giornali di magazzino. Tutto quello che poteva essere smaterializzato è stato smaterializzato in quest'ottica un po' di risparmio di brevissimo termine. La consapevolezza è venuta un po' dopo. Un processo che ha smaterializzato 60.000 verbali. Non c'è più nessuna coppia cartacea di questo verbale in nessuna parte dell'azienda. Io avevo promesso che dopo la mia testimonianza avreste sentito il bisogno della pausa al caffè. La consapevolezza è venuta un po' di risparmio. Buongiorno a tutti. Il mio è un classico intervento di mezzo. Sono tecnicamente quella che si chiama la fascia pubblicitaria. Credo che gli stimoli, gli spunti di riflessione e le testimonianze, le evidenze siano state molte, tutte molto interessanti. Vi ringrazio per la pazienza con cui ci avete seguito. E in premio diciamo che ci sarà il Light Lunch, Light assolutamente, a seguire dopo questo evento. Grazie ancora per tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.